Il signor Umberto ci dirà in un senso esilarante, pieno di carica, di grinta e di forza per voi, e un applauso Umberto e Solini! Il signor Umberto ci dirà in una Io non ho prendo le dipende, poi scuola la titana, dammi una mano per favore, che io non ho avuto. Io non ho prendo le dipende, poi scuola la titana, dammi una mano per favore, che io non ho prendo le dipende, poi scuola la titana, dammi una mano per favore. Io non ho prendo le dipende, poi scuola la titana, dammi una mano pro posore, che io non ho prendo le dipende, poi scuola la titana, dammi una mano per favore, che io non ho prendo le dipende. Alessandro, Alessandro! Alessandro! Alessandro, Alessandro!